è un ciclista hanno investito no no bloccati qua no mi hanno già cazziato oppure cascato da fermo la fc sta bene chi sta qua sta qua vabbè ciccone è ciccone è abruzzese facciamo la cronaca va siamo fermi vai alla all'aurelio comunque questo si spegne continuano eh sì perché come dici sempre fuori percorso ho messo io fuori percorso e che ci vuoi agganciare il classico frontale moto barra bc parlo per Adelino pazzesco parlo per Adelino certo siamo fermi qui perché hanno investito un ciclista lo stanno portando in elisoccorso tra un po' partirà l'elisoccorso che lo porterà all'ambulanza no va giù l'ambulanza o no ma no occhio che viene qua occhio vabbè dovrebbe andare lì così piano mamma mia terribile esce esce e certo non devo far scorrere ci conviene anzi che inzaccarci tutte queste macchine facciamo un altro botto grazie grazie